Non appena fui fuori di casa, i brividi mi scombussolarono. Quell'alba faceva più freddo del solito. Esitai per qualche attimo. Dietro l'uscio il letto era ancora caldo. Poi innestai risoluto il passo. La strada dell'abitato, di la villa al col di lana, era piuttosto lunga. Mi piaceva del resto girovagare per valli quando tutto ancora dormiva e dunque nessun suono umano disturbava lo stato di grazia in cui scivolavo, attraversando raduri e boschi, dove cancellavo i pensieri e diventavo ingordo di sensazioni. Così quella mattina, di nuovo, lo scroscio del torrente Jaric mi trasmise un senso di purezza. I prati vellutati dell'Armentarola mi saziarono di quiete e le fantastiche guglie delle Conturis mi accesero di meraviglia. Mi domandai con quali occhi avevano però osservato quei medesimi luoghi giovani sepolti nel piccolo cimitero militare tedesco, che toccai poco prima di raggiungere il passo Valparola. Un secolo prima, infatti, le montagne sopra avevano avuto il volto della morte. Sul valico si attardavano bave di nebbia che intitizzivano. Mi concessi una tazza del tè bollente del rifugio, alle spalle del quale poi imboccai il sentiero che conduceva sotto le pareti verticali delle pale di Gerda e del gruppo del Setsas, di cui costeggiai i lunghi basamenti, forzando ulteriormente il passo. Nonostante che marciassi più che spedito già da alcune ore. L'immenso silenzio nel quale avanzavo di tanto in tanto veniva rotto dai fischi acuti delle marmotte, come a rammentarmi che il mondo non appartiene soltanto all'uomo. Superai il passo Sief e risalì la scoscesa interminabile trincea che gli austro-ungarici avevano scavato lungo tutto il crinale del monte omonimo. Quando trovai la via interrotta da un grande cratere, restai interdetto. Per sloggiare il nemico, entrambi gli opposti eserciti avevano fatto esplodere più volte il Sief e altre montagne vicine, scavando nella sua pancia gallerie che terminavano con enormi stanze poi stipate di dinamite. Che innovative e del tutto inutili stragi! Il fronte dolomitico non si era comunque smosso di una virgola. Al di là del fosso si stagliava la mia meta, il col di lana, ribattezzato dai fanti col di sangue. Infatti la contesa della sua vetta costò la vita di 8.000 di loro. Mi calai nella spaccatura. Saltellai tra i detriti dell'esplosione e poi, seguendo una malferma fume metallica dispiegata lungo la cresta, mi nerpicai su fino alle croci, poste sulla cima dell'ana. Resa tozza anch'essa nel 1916, da oltre 5 tonnellate di esplosivo. Per un po', tutto solo, gironsolai su quel cucuzzolo, fotografando la cappelletta, un bivacco allestito dagli alpini, l'obelisco e l'è eretto affinché si serbasse memoria dell'inisattezza della guerra e tutti i magnifici panorami che potei godere dall'assù. Avevo intrapreso la via del ritorno quando giù, lungo il fianco, ripido della montagna, un riverbero del sole incerto in quel mattino richiamò la mia attenzione. Dal terreno affiorava infatti un oggetto, verosimilmente di metallo, un residuo bellico riportato alla luce dal tardivo disgelo dell'inverno più nevoso degli ultimi trent'anni, oppure una moderna lattina gettata da un escrezionista incivile. Incuriosito mollai il cavo e discesi con catela il pendio. Tra le mani mi ritrovai così un astuccio ossidato che faticai a schiudere. Al suo interno una vecchissima stilografica. Alcuni pennini e un foglio accuratamente ripiegato, ma molto ingiallito, che ha persi con estrema delicatezza temendo che potesse andare in mille pezzi. Guardai la prima rega, sabato 12 maggio 1917, ed ebbi un sussurto. Poi, a fatica, poiché sbiadito dal tempo, lessi il resto. Mia adorata, più non ti angusterò con pensieri foschi come feci, senza sul momento avvedermene nell'ultima mia, che fu dettata dai patimenti per il gelo, e specialmente dal turbamento per la morte del caro capitano Silvestri. Oggi finalmente il sole illumina le trincee. Si sono scaldati anche i cuori, perché le armi tacciano. Posso dunque abbandonarmi alla contemplazione della marmolada, del sella, e volgendo gli occhi dall'altra parte del civetta. Nonostante la guerra, mi è davvero impossibile avere in odio tanta superba bellezza. All'opposto, un tal paradiso, nel quale gli scoppi appaiono ancor più un sacrilegio. Insegna ad amare il mondo come mai. Così, è con una nuova, immensa tenerezza nel cuore, che si guarda un fiore fare capolino tra i sassi, e si accarezza l'ampo. Così l'abbiamo battezzato, il cari vagabondo e spaurito, che trovò rifugio da noi un paio di mesi orsono. E che qualcuno, per lenire per una giornata i morsi della fame, invece aspira a mangiare. Pure in tempo di pace, tenere di più a mente che un giorno non ci saremo più, dovrebbe a sgomberare la nostra esistenza dalle futilità, le inutili rabbie e le meschine invidie di cui essa è zeppa, e a vivere invece con pienezza le cose davvero importanti, che sono poi poche ed ovvie. Conquisteremo la serenità, che è somma ricchezza. Non credi anche tu, cara? Dopo la guerra, allora quando la memoria di essa mi sarà forse divenuta un po' meno dolorosa, chissà, potrei immaginare di affittare camera in estate nel piccolo paese di Corbara, e condurre te e la nostra piccola Elisa a vedere questi luoghi pur tuttavia deliziosissimi. Te ne innamoreresti subito, ne sono certo, e io diventerei un po' geloso di loro. Nel frattempo, insegna fin d'ora la bambina ad inseguire con tutte le proprie forze i suoi sogni. Se li realizzerà, sarà assolutamente felice. Nel caso invece non riuscisse, dopo i suoi giorni, non sarebbe comunque avvelenati, dal rimpianto di non averne avuto l'audacia. Ora ti devo amminasciare, perché ho da svolgere un giro di ispezione. Attendo con ansia vostre notizie. Un bacio, sempre tuo, Alberto. Quella lettera non era mai partita, dunque il soldato che l'aveva scritta probabilmente era rimasto ucciso. In quale punto del monte, mi chiesi, guardando intorno, e come? E cosa ne era stato della sua famiglia? La figlia, poi, aveva avuto una vita felice? Scavai lì stesso una buca, con il pugnale che trasportavo nello zaino, e ve li seppellì dentro il ritrovamento. Era giusto che quella manifestazione d'amore restasse per sempre dove si era manifestata. Una girandola di pensieri mi accompagnò lungo tutto il tragetto di ritorno, fatto sotto una pioggia abbattente. Non appena fui a casa, cercai mia moglie e l'abbracciai forte. dell'ac बा sill a Autore dei sorrisi